Il microfono va, benissimo. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio l'Università di Bologna che ci ha invitato e soprattutto ringrazio NVIDIA ed E4 che ha organizzato questa giornata. Io mi chiamo Rita Cucchiara, come vedete, sono il direttore del centro interdipartimentale di ricerca Softec ICT a Modena, che è un centro di tecnopolo della regione Emilia-Romagna e da un tot di anni sono responsabile del laboratorio di ricerca Image Lab. Infatti a Modena, ormai appunto dal 98, ci occupiamo di attività di ricerca scientifica in visione artificiale, in computer vision, nell'analisi di immagini di video e in pattern recognition e quindi in tutte le applicazioni di tecniche che vanno dall'intelligenza artificiale classica al machine learning e da un po' di anni al deep learning applicate ad immagini e a di video. E quindi il nostro attività è tendenzialmente di tipo scientifico, ma anche molto legata ai progetti con aziende e quindi il trasferimento tecnologico delle nostre competenze, degli nostri algoritmi alle aziende in progetti assieme e anche una parte di curriculum formativo professionale. Già che sono in questa pagina, prima di iniziare, ringrazio il Cineca che parlerà dopo di me perché utilizziamo moltissimo le macchine del Cineca per la parte del deep learning, ringrazio Facebook perché da un anno siamo diventati il laboratorio europeo di Facebook e abbiamo un contatto diretto con loro e faccio un po' di pubblicità perché in Italia abbiamo un'associazione che si chiama Associazione Italiana di Pattern Recognition che è molto attiva nell'ambito di immagini e di video e che fa la conferenza su questi temi di cui parliamo oggi a Catania in settembre, se avete bisogno di queste informazioni ve le darò ma soprattutto è la Computer Vision Foundation americana che in realtà è nata in America ma è internazionale e che è il co-sponsor assieme alla IEEE della conferenza ICCV, la conferenza internazionale di Computer Vision che per la prima volta quest'anno in Italia e che organizziamo assieme ad altre università italiane in ottobre a Venezia e quindi vi invito a tenere conto di questa conferenza o di contattarmi perché credo che aspettiamo 3.000 persone per questa conferenza e quindi a 3.000 persone chiuderemo e quindi penso che sia davvero un evento molto importante di che cosa ci occupiamo in Image Lab? Di tante applicazioni e di tante attività che riguardano la Computer Vision applicata la Video Surveillance che sarà uno degli argomenti di oggi applicata la Human Behavior Understanding quindi al riconoscimento di persone e del comportamento degli eventi anomali riguardanti le persone applicata alla ricostruzione e all'analisi nell'ambito delle Digital Humanities applicata moltissimo, questo è un progetto italiano piuttosto grosso che stiamo facendo in collaborazione con la RAI non soltanto alle immagini ma anche all'audio e al testo per l'annotazione di video e di grandi dimensioni e essendo al Dipartimento Enzo Ferrari non possiamo farne meno moltissimo ultimamente all'automotive oltre che anche la visione ormai è decisamente pervasiva e quindi si applica da tanto tempo anche assieme a tanti altri dati sensoriali ad esempio robot, questa è una cosa che stiamo facendo in collaborazione con i nostri meccanici con un Baxter che abbiamo a disposizione su cui possiamo lavorare anche in questo settore bene, oltre alla parte di attività come vi dicevo di ricerca abbiamo anche una parte di attività post laurea come tutte le università abbiamo un dottorato che è aperto a dottorati industriali di cui faccio pubblicità perché in questo momento il bando è aperto e anche abbiamo un master che è la seconda edizione che si occupa specificatamente da questo per laureati che lavorano, che studiano da noi per sei mesi o per quattro mesi d'estate e poi vanno sei mesi direttamente in azienda con le aziende che collaborano con noi di nuovo anche per questo potete contattarmi dopo l'argomento di oggi invece della mia presentazione riguarda quello che stiamo facendo con reti neurali profonde in ambito della computer vision e in tre ambiti che possono sembrare molto diversi ma assolutamente non lo sono che sono l'ambito della surveillance l'ambito della human behavior understanding e l'ambito dell'automotive in particolare, adesso questo schema vi dimostra quello che stiamo facendo a Modena nella surveillance di solito si usano telecamere fisse ma non si usano soltanto nell'ambito delle smart city perché abbiamo progetti di logistica industriale con aziende per fare la stessa cosa in ambito molto più ristretto però altrettanto complicato così come si usano gli analytics ad esempio nei grandi magazzini per studiare il comportamento o la safety delle persone così come nel human behavior understanding si fanno cose simili anche se si organizza e si studia soprattutto il comportamento del singolo, dell'interazione tra più persone e quindi anche la face, la gesture, la posture e tutte le attività legate alle attività umane nell'ambito dell'automotive i problemi sono molto simili solo che sono presi da un altro punto di vista che è il punto di vista di un oggetto in movimento quale è l'auto sia per realizzare dei sistemi di ADAS di Automatic Driver Assistance System e sia anche per l'autonomous guidance ecco qual è il comune framework di tutti questi? adesso è lo stesso framework che ha accumulato praticamente tutte le presentazioni di oggi il fatto che possiamo mettere assieme un computing zone sempre maggiore GPU li troviamo su sistemi embed di bassissimo costo li troviamo su workstation private e li possiamo utilizzare in cloud e che possono essere quindi utilizzati per le nuove applicazioni la presenza di grandissimi dataset annotati e open source ImageNet adesso sono 14 milioni di immagini nell'ultima versione Coco di la Microsoft sono solo 300.000 ma sono anche annotate con il parlato e segmentate in un modo decente e poi ci sono tutti i dataset che tutte le varie università mettono a disposizione annotate e naturalmente la terza cosa la rivincita delle reti neurali dico rivincita perché diciamo le mie colleghe che sono qui a Bologna sanno noi abbiamo iniziato a studiare questo nel 91 poi per un tot di anni, per un bel po' di anni sono state quasi dimenticate perché nel 91 fare a mano 20 neuroni era una cosa impossibile adesso visto che se ne usano 4 milioni con dei tools facilissimi da usare che in una settimana tutti possono imparare ad usare adesso effettivamente la situazione decisamente cambia cosa cambia dal punto di vista della computer vision con le reti neurali cambia il fatto che praticamente tutta la catena tutta la pipeline che si usa in computer vision a partire dall'image processing che non ho scritto a tutta la parte di ricostruzione 3D alla parte della feature selection della feature detection e del feature modeling fino ad arrivare alla classificazione e all'understanding può essere realizzata adesso con delle reti neurali sia con le reti neurali convolutive classiche diciamo quelle che dalle cune altre sono state riutilizzate da circa 7-8 anni in ambito della computer vision ma anche altri tipi di reti come autoencoder che diceva e che ha presentato la professoressa a Milano le long short term memories per lavorare con dati sequenziali nel tempo o come vi farò vedere alla fine anche le nuove GAN che sono veramente molto interessanti o tante altre architetture ecco nel mio laboratorio utilizziamo architetture stato dell'arte per la parte di visione o anche studiamo nuove architetture e nuovi algoritmi o nuovi metodi per apprendimento con questi quello che vi farò vedere riguarda diciamo tre punti di vista il punto di vista del guidatore o della persona il punto di vista dell'auto e il punto di vista della città e vi farò vedere diciamo alcuni risultati che abbiamo sviluppato presso il nostro dipartimento negli ultimi diciamo due anni e che effettivamente o due o tre anni e che fanno un uso massivo delle reti neurali anzi senza di queste in questo caso e aspetto percettivo non potremmo ormai farne senza ecco partiamo dal primo punto di vista guardiamo il driver point of view quello che vi mostro è chiaramente in ambito automotive però si può perfettamente generalizzare per essere un punto di vista egocentrico quindi al punto di vista della telecamera messa sul diciamo sulla testa o comunque solidale con la persona che potrebbe essere utilizzata in ambiente industriale in tanti altri campi molto simili e non solo vogliamo capire qual è il meccanismo attentivo di una persona ma anche provarlo a riprodurlo con delle reti neurali questo che vedete è un dataset che in questo momento non è così grande ma è sicuramente il più grande al mondo da questo punto di vista che abbiamo acquisito in un anno e mezzo di lavoro andando in giro tendenzialmente per l'Emilia Romagna con degli eye tracker di giorno o di notte con la pioggia con il sole per studiare il comportamento di persone che guidano in ambiente normale quindi senza diciamo situazioni particolari che cosa abbiamo fatto con questo dataset intanto come vedete in alto le immagini sono state acquisite da due telecamere la telecamera frontale sull'occhiale e la telecamera sull'auto e poi con diciamo metodi di computer vision classico abbiamo fatto una registrazione tra le due immagini per poter tornare al punto di vista diciamo dell'auto e non soltanto del guidatore e per far questo se vuoi far partire il video questo che vedete in questo caso non è altro che ciò che guarda un normale guidatore quanto guida è abbastanza interessante perché adesso non ho tanto tempo per farvene vedere ore ma potreste immaginare di solito noi effettivamente guardiamo la macchina davanti guardiamo la strada pochissimo guardiamo se per caso ci sono delle persone a destra e a sinistra ma solo se ad esempio c'è una bicicletta adesso mi sembra lì viene guardata per un attimo e poi dopo si va avanti e questo è il nostro modo di guida classico quello che abbiamo fatto andando avanti è innanzitutto studiare che cosa guarda un essere umano quando guida e quindi avere tutte le statistiche possibili che non vi sto a immaginare ma poi di replicare lo stesso comportamento attraverso delle reti neurali in questo caso una rete sia una parte convolutiva sia due autoencoder con una rete diciamo che abbiamo un po' studiato ad hoc e che nell'ultimo anno abbiamo anche migliorato mettendoci anche questo che è la segmentazione automatica del contenuto in modo tale da sapere pixel per pixel quali sono le cose che effettivamente stiamo guardando in questo caso abbiamo un pochino modificato una rete abbastanza classica che si è stata fatta all'Intel nel 2015 che è una CNN dilatata e che ci permette di vedere come se vuoi far partire il video mettere assieme in questo caso questa è la rete che guida la sola in qualche modo non guida ma almeno guarda la strada quello che vedete qui è da una parte che cosa deve essere guardato maggiormente e il fatto che abbiano colori diversi è perché automaticamente viene classificata la strada la macchina cose di colore diverso sono oggetti che sono riconosciuti come cose diverse quindi semaforo la strada o altre cose se puoi far partire anche questo questa è una cosa molto carina che mostra due reti che sono state trainate con dei dati diversi questa di qua con i dati di un guidatore come vedete e questi diciamo lato passeggero cioè con con un metodo di salience general purpose trainato su immagini qualsiasi e prese con acquisizioni diverse ed è molto interessante perché si vede che questo è task oriented questa invece è una rete che guarda tutto ciò che è potenzialmente utile attorno e quindi potrebbe anche essere più utile dell'altra per guidare anche se questa ti dice qual è la priorità rispetto al resto ecco questi studi che sono stati fatti dal punto di vista della persona sono di fatto riportati anche dal punto di vista del veicolo che cosa stiamo facendo dal punto di vista del veicolo da una parte una cosa molto interessante ma che non ho il tempo di mostrarvi che è il riconoscimento della postura del guidatore e dell'attenzione del guidatore utilizzando delle immagini soltanto depth salto questa cosa a malincuore ma solo per problemi di tempo ma lo voglio citare perché questo diciamo è stato fatto grazie a delle donazioni che ci ha fatto Ferrari insomma in tutta la plancia e lavoriamo in grande collaborazione con loro mentre quello che vi mostro in queste due slide è una cosa veramente nuova che è più teoria che non pratica ma che presto sarà pratica che è vedere riuscire a capire se riusciamo a classificare a riconoscere la velocità di tutto ciò che è intorno da un oggetto in movimento quale è la macchina quindi il calcolo automatico dell'optical flow che così si chiama con delle reti neurali è nuovissimo perché il primo lavoro è stato questo di Daniel Kramers e di altri ICCV di due anni fa per riconoscere in immagini sintetiche come vedete il tipo di movimento noi lo stiamo facendo in questo momento con una collaborazione con Panasonic a San Francisco per riconoscere il movimento delle persone mi puoi far partire anche questo per il movimento delle persone delle auto e dell'auto stessa adesso quello che vedete è di fatto qualitativo ma non lo è così tanto perché ogni colore diverso dice un'orientazione diversa del movimento quindi in questo caso non è stato utilizzato l'equazione dell'optical flow ma è stato insegnato alla rete qual è il movimento potenziale di ogni punto e quindi può servire ad esempio per calcolare la distanza e il movimento degli oggetti che ci sono attorno stessa cosa che stiamo facendo questo diciamo è un risultato appunto che il mio dottorando è stato sei mesi in San Francisco adesso è tornato e stiamo facendo con loro diciamo può essere generalizzato per esempio per utilizzare e capire quali sono gli oggetti e quali sono le distanze degli oggetti quanto sono in strada in questo caso questa è una rete classica una Iolo che è una rete che non abbiamo fatto noi ma quello che abbiamo fatto noi poi far partire il video è quello di modificare in parte questa rete e mettendoci anche una parte di omografia e di omografia del piano per riconoscere istante per istante magari facciamo vedere quella dopo che si vede meglio questa vista dal dietro dell'auto la distanza delle macchine che ci sono davanti e indietro prese da una telecamera singola non da telecamera stereo è calcolata e appresa attraverso reti neurali ecco finisco perché i miei minuti sono ormai finiti per raccontarvi il terzo punto di vista che è diciamo quello di cui in realtà ho forse più competenza perché è un argomento da cui insomma su cui mi occupo di cui mi occupo da tanti anni e che è il discorso della videosorveglianza che sia poi per la sorveglianza in zone di lavoro sulle autostrade riconoscimento di eventi quale lo smoke o tante altre tendenzialmente questo è sempre stato utilizzato sono sempre stati utilizzati metodi classici della computer vision e metodi da pattern recognition e machine learning di nuovo che chiamerei classici come supervector machine o o altre tecniche adesso praticamente stiamo facendo un reverse engineering o una rivisitazione di tutti questi algoritmi in ambito in ambito di machine learning quello che vedete qui è una cosa nuova perché l'abbiamo fatto il 21 marzo ma mi faceva piacere mostrarla perché è stata fatta in real time ed è stata fatta davvero in collaborazione come vedete con Maserati con il comune di Modena a Marsaglia nel nostro diciamo simulando la situazione cittadina per capire in tempo reale da partire da una macchina che cosa poteva essere visto da altri punti di vista vista dalle telecamere invece di videosorveglianza cioè in un sistema come vedete le telecamere di videosorveglianza osservano il sistema capisce e lo manda magari al laptop che si trova sull'auto per indicare quello che sta succedendo lontano ecco su questo purtroppo c'è un piccolo video qua che è bruttissimo questo qua a destra quella è un'immagine sola è fatto male perché il collegamento non avevamo ancora il 5G e quindi il collegamento infrastructure to vehicle è fatto con insomma con una interfaccia molto 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 raffazzonata e quindi il fatto che lo vediate non particolarmente preciso dovuto soltanto a problemi di comunicazione però di fatto questo è quello che si vedeva nel grande schermo nel momento in cui una macchina era parcheggiata una persona traversava una bicicletta passava questa informazione veniva data direttamente alla macchina alla macchina arrivo questo perché è quello che staremo per sperimentare a Modena in un grosso progetto che si chiama Modena Smart Area che penso ci occuperà nei prossimi anni termino con l'ultima l'ultima cosa che forse dal punto di vista della ricerca è la parte che mi piace di più che è un discorso diciamo che è attività di ricerca oggi prototipo domani produzione passato domani ma questo domani e passato domani sono molto vicini che è il discorso dell'attribute detection in ambito di video sorveglianze vorrei sapere se questa persona è uomo o donna ha i capelli neri se è stata parlando al telefono se usa la giacca e quindi tutto quello che si chiama attribute detection cosa che viene fatta ma è ben difficile da fare con i sistemi di video sorveglianza dove vedete le persone che sono a bassissima risoluzione sgranate estremamente occluse o situazioni di questo tipo quello che stiamo facendo è utilizzare l'architettura diciamo forse lo stato veramente dell'arte che si chiamano GAN sono Generative Adversarial Networks sono delle reti neurali in cui praticamente quello che succede come ha detto stamattina Matteo volevo diciamolo ho portato con orgoglio perché Matteo si è laureato stamattina con queste con queste attività che però stiamo facendo il lavoratorio da un po' praticamente c'è una rete che in questo che vedete sta imparando a generare persone a partire da rumore cioè parte è un'immagine fatta di rumore e ha imparato a generare persone le GAN che cosa succede c'è un'altra rete che prova a capire se l'immagine è un'immagine vera è un'immagine falsa e quindi è come se un falsario facesse un quadro falso e la GAN cerca di capire se l'immagine è corretta o no le reti si auto imparano e la cosa importante è che qua non c'è bisogno di un grande dataset perché queste sono reti in gran parte non supervisionate e quello che sta facendo la rete impara a generare persone dopodiché non solo impara a generare persone ma impara anche a partire da un'immagine a bassa risoluzione a crearne la sua versione ad alta risoluzione e se l'immagine è occlusa a inventarsi la parte che non vede essendo la parte più plausibile e questo ci permette di ricostruire queste cose e anche di ottenere dei risultati veramente interessanti da quel che riguarda il riconoscimento ad esempio se uno è maschio femmina oppure se sta parlando se non sta parlando sempre con delle reti di questo tipo bene questa è l'ultima cosa di cui vi faccio vedere soltanto un'immagine perché il mio tempo l'ho già fatto scadere qua è invece un'applicazione di tracking che stiamo facendo con un progetto regionale per questo mi faceva piacere di tracking sempre da immagini bidimensionali diciamo quindi non da immagini depth in questo caso sempre soltanto con una telecamera utilizzando reti neurali concludo diciamo non è che ci siano tante conclusioni perché tutt'oggi stiamo parlando delle stesse cose con comunque due o tre messaggi il primo che le reti neurali davvero hanno modificato il modo di lavorare nell'ambito della visione e della percezione non credo che sia l'unico diciamo strumento il placebo per tutta l'intelligenza artificiale assolutamente no perché c'è tutta una parte di reasoning che deve rimanere di tipo simbolico ma certamente per noi è estremamente importante ed è importante perché la visione può mettersi assieme a tanti altri sensori e soprattutto con grandi dataset e con le GPU che adesso ci sono a disposizione può ottenere dei risultati davvero importanti ringrazio diciamo la grandissima famiglia che ho a Modena perché ormai siamo più di 20 e vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 grazie